A tutti voi buona giornata, bentrovati a questo appuntamento con l'informazione di Telefriuli che apriamo subito con la cronaca. Acquistavano pellet dall'est Europa per poi rivenderlo in Italia senza pagare le imposte. Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane di Udine hanno scoperto una truffa da 11 milioni di euro. Un imprenditore è stato arrestato mentre sono 11 le persone denunciate il servizio. Le Fiamme Gialle e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Udine hanno scoperto una maxifrode fiscale ideata da un sudalizio che trafficava in pellet di contrabbando in arrivo dall'est Europa riuscendo a sottrarre oltre 11 milioni di euro di imposte. I militari, su disposizione del Tribunale di Udine, hanno posto agli arresti domiciliari un 65enne di Ivrea mente del complesso Giro di Affari, mentre per due 38 anni russi residenti in Friuli è scattata l'interdizione dall'esercizio di impresa. A carico degli 11 imprenditori coinvolti nell'attività illecita, poi, è scattato il sequestro di beni e valori per 3,5 milioni di euro. L'indagine era nata a inizio 2017, quando era stato scoperto un anomalo flusso di combustibile importato in Friuli da due aziende locali. Sul pellet, prima di essere immesso sul mercato, veniva a posto il marchio di certificazione di qualità. Ipotizzata la frode, è così partita l'operazione perniciosa flagranza, che, coordinata dal sostituto procuratore Paola De Franceschi, ha permesso di scoprire il meccanismo architettato da cinque piemontesi, tra cui un commercialista e dai due cittadini russi, che prevedeva l'acquisto di pellet da società dell'Est Europa e, prima dell'importazione in Italia, la rivendita ad altre due ditte filtro create ad arte per assolvere agli obblighi doganali. Il 65enne di Ivrea e un 50enne di Vercelli, poi, avevano rubato l'identità di due imprenditori rumeni, riuscendo così a confondere la catena degli approvvigionamenti e a ottenere fidi bancari e conti correnti. Il pellet sequestrato, pari a oltre 750 mila chili, sarà donato a organizzazioni umanitarie per l'impiego a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali. Momenti di paura nella canonica di Basiliano, nel tardo pomeriggio di ieri, dove una persona in evidente stato di alterazione si è presentata alla porta, bussando con violenza per entrare. Le sue aree spaventate non hanno aperto, l'uomo in preda ad un raptus ha lanciato degli oggetti contro alcune vetrate, mandandole in frantumi. Tra gli oggetti scagliati anche un crocifisso di ferro. Le religiose non sono rimaste ferite, la persona si è poi allontanata. A quel punto è scattato l'allarme che ha fatto intervenire sul posto i carabinieri di Campoformido. Il caso ha destato non poco scalpure perché è accaduto sotto gli occhi di diversi cittadini. Un commerciante del posto ha assistito alla scena quando l'uomo si è messo a insultare. Il parroco in piazza, del fatto è stato informato anche il sindaco, il parroco Don Dino Bressan, ritiene che alla vicenda non sia necessario dare particolare rilevanza. Andiamo a Udine dove è iniziata questa mattina alle 9 la demolizione del muro che per decenni ha separato Via Prachiuso e il suo borgo dalla zona militare della caserma Reginato. La demolizione di questo muro è un momento storico che insegna l'inizio di una nuova vita per Borgo Prachiuso, per la quiete e per l'intera città che si riappropria di uno spazio importante, ha commentato il sindaco Fontanini. La strada non sarà più chiusa dal muro della caserma e diventerà così più aperta, vivibile e ospitale. I residenti della ASP potranno così godere di uno spazio verde che si apre alla città. L'abbattimento del lungomuro che corre sul lato destro della via consentirà di riaprire la zona verde a beneficio di tutta la cittadinanza su un'area, cosiddetta il triangolo, di circa 3.000 metri quadri. Si tratta di una riqualificazione senza precedenti per il quartiere e per la città, condiviso fin dal principio con la popolazione. Grande soddisfazione da parte del Comitato di Cittadini che ha sempre sostenuto l'operazione, che ha visto il passaggio in tempi recorde a costo zero, dell'ex area militare alla regione Friuli-Venezia-Giulia e quindi alla ASP La Quiete. Giù il muro di Borgo Pracchiuso dopo la Reginato toccherà alla Di Prampero. L'anticipazione dell'ipotesi allo studio è del sindaco di Udine Pietro Fontanini. Il comando della Brigata Alpina Iulia potrebbe essere trasferito all'interno della caserma Spaccamela di via Fruc. L'enorme struttura posta nel cuore della città potrebbe così tornare al comune di Udine. E ulteriori dettagli in relazione alla dimolizione del muro in via Pracchiuso nel corso della puntata di oggi di A voi la linea, subito dopo il telegiornale. Siamo alla pagina dell'economia. Il colosso dell'e-commerce Amazon ha annunciato l'apertura di un nuovo deposito di smistamento a Fiume Veneto. La struttura da 4.500 metri quadri sarà operativa nei prossimi mesi e creerà circa 100 posti di lavoro a tempo indeterminato. Soddisfazione per l'investimento è stata espressa dal sindaco del comune pordenonese Jessica Cantone per i benefici occupazionali che porterà. È invece cominciata questa mattina a Trieste l'Assemblea dei Socii delle Generali. È chiamata ad approvare un bilancio con un utile record di 2,3 miliardi e a rinnovare il Consiglio di Amministrazione. Scontate le conferme del Presidente Galateri e dell'amministratore delegato Donnet. È l'immagine della nave, quella con la quale il Presidente delle Generali, Gabriele Galateri di Genola, ha descritto la situazione del colosso triestino all'Assemblea dei Socii, in corso da stamani a Trieste. Generali, ha detto Galateri, è una nave che ha avuto bisogno di un intervento di manutenzione straordinaria e di rinnovamento. Ora è un vascello più solido, veloce e moderno. Il riferimento di Galateri è ai profondi interventi messi in atto con il piano triennale appena scaduto che ha portato a risultati molto positivi, che ha portato il mercato ad apprezzare fortemente il leone triestino. Il titolo, ha ricordato l'amministratore delegato Philippe Donnet, è salito di oltre il 48% a partire dall'Investor Day dello scorso novembre, quando è stato presentato il nuovo piano triennale al 2021. Apprezzamenti importanti anche da parte degli azionisti, che con l'Assemblea di oggi confermeranno i mandati a Galateri e Donnet. Il terzo consecutivo per Galateri, il secondo per Donnet. Proprio per quanto riguarda gli azionisti, in Assemblea è stato comunicato che il gruppo Benetton ha arrotondato la propria quota al 4% e che Mediobanca è scesa, anche se di poco, sotto il 13%. Prima dell'inizio dell'Assemblea, davanti alla stazione marittima, i militanti di Greenpeace hanno collocato due grandi ciminiere per protestare contro le attività assicurative del leone nel settore del carbone. Le due ciminiere sono state rimosse dagli addetti alla sicurezza e nel corso dell'Assemblea Donnet ha annunciato investimenti per 4,5 miliardi per aumentare le soluzioni assicurative sostenibili entro il 2021, anche tramite il lancio di Green Bond. Aumentano i servizi del Trieste Airport dedicati ai viaggiatori, d'oggi sul portale dell'aeroporto sarà possibile comprare e acquistare soluzioni di volo offerte dalle compagnie aeree che fanno scalo in Friuli Venezia Giulia, l'annuncia il Trieste Airport. Ed è stato presentato il nuovo polo logistico per l'agroalimentare fresco e congelato all'interno della SDAG di Gorizia. La nuova infrastruttura si pone come punto di riferimento europeo e la regione lo porterà come esempio alle più grandi fiere del settore. Il nostro polo del freddo possiamo definirlo un polo agroalimentare logistico del freddo, è un fiore all'occhiello della SDAG di Gorizia. Noi abbiamo già eseguito il primo lotto, perché oggi in qualche maniera presentiamo le celle alla regione che ci ha finanziato con circa 4 milioni di euro queste celle frigorifere a bassa temperatura, a temperatura controllata. Abbiamo già realizzato il primo lotto l'anno scorso e adesso stiamo ultimando il secondo lotto, abbiamo già trasferito gran parte della merce e abbiamo fatto la presentazione perché abbiamo in programma di presentare questo nuovo polo agroalimentare del fresco e del freddo alle due fiere, quella della Macfrutta Rimini e quella della Transport Logistics di Monaco. La regione ormai ha all'interno una vasta gamma di offerta dal punto di vista logistico che va sia dai porti che dagli interporti e Gorizia si pone come fiore all'occhiello per quanto riguarda il polo del freddo. È fondamentale questo perché si integra a quella che è l'offerta per qualsiasi tipo di operatore ormai che può venire in Friuli, Venezia e Giulia e trovare una risposta a quelle che sono le loro esigenze. Noi andremo a Monaco i primi di giugno alla fiera europea ma penso che sia una delle più grosse anche mondiali a presentare il sistema Friuli, Venezia e Giulia e Gorizia fa parte di questo sistema, è un sistema molto importante perché Gorizia rappresenta il freddo per il nostro territorio. Inaugurata nel centro di Milano una mostra dedicata alla storia degli alpini questo in vista della donata nazionale alla quale parteciperanno anche migliaia di penne nere friulane. Il presidente nazionale dell'ANA illustra il significato del motto coniato per la donata nazionale. La conferenza è l'apertura, il modo per dire partiamo e nella realtà siamo ormai a pochi giorni quindi di fatto è una partenza che se il buongiorno si vede dal mattino devo dire che è un buongiorno. L'inaugurazione, l'apertura della mostra questa mattina e voglio ricordarlo è la prima mostra sulla storia vera dell'Associazione Nazionale Alpini completa da un lato ma anche così propositiva dall'altro. Solo due parole sul motto 100 anni di coraggioso impegno. Sì, questo è un motto che vuole sottintendere la capacità sempre che hanno avuto gli alpini in tutti i momenti soprattutto in quelli difficili che ha sopportato il nostro paese di essere presenti di avere il coraggio di fare un passo in avanti e un passo in più. È un onore che io credo debba essere reso ai miei predecessori, a quegli alpini che hanno saputo generosamente dare. Ed ora con il servizio di Ivano Mattiussi riviviamo le emozioni della serata conclusiva del Far East Film Festival. Una kermesse sicuramente da immortalare quella appena andata in scena a Udine per Anthony Wong attore superdivo oncongolese già premiato lo scorso venerdì con il gelso d'oro La Carriera mentre nella serata che ha concluso il Far East Film Festival 21 il pubblico del Teatro Nuovo Giovanni D'Audine non ha avuto dubbi nel tributargli anche il premio della critica per Stale Human film di cui lo stesso Anthony Wong è protagonista assieme all'attrice Chris Elkonsonji con regia di Oliver Chang. Al posto d'onore c'è la black comedy cinese Dain to Survive di Wen Mui e al terzo il super blockbuster coreano Extreme Job. Dopo nove giorni di programmazione con 77 film tre anteprime mondiali e 14 debutti che raccontano il presente e guardano al futuro. A dimostrazione della centralità oramai conquistata da Udine sul fronte del mercato cinematografico orientale l'edizione appena mandata in archivio ha fatto registrare 60.000 spettatori fra Cinema Centrale e Giovanni D'Audine con 200 guest star dell'Asia ed altrettanti professionisti dell'industria cinematografica orientale ed europea. Positivo non da meno l'impatto sulla città con oltre 100 appuntamenti fra i quali l'oramai tradizionale cosplay contest con oltre 20.000 presenze malgrado le condizioni meteo non favorevoli. Il tutto a merito di un pool di appassionati del CEC, Centro Espressioni Cinematografico di Udine che nel 1999 al Cinema Ferroviario partorirono l'idea di specializzare un festival sul cinema d'Oriente. Il nostro telegiornale termina qui, l'appuntamento è tra pochissimo con a voi la linea. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS